Ciao a tutti, buongiorno, sei oramai scritturato tra gli amici di oggi e un altro giorno e questo ingresso super rock e super fascinoso perché i Pink Floyd sono veramente rock e fascinosi sono a indicare che sei in teatro con un lavoro dedicato proprio a Pink Floyd che si intitola Prisma come la copertina proprio di Dark Side of the Moon. Non è un gestaccio, è la copertina dell'album, esatto, di Dark Side of the Moon, che è un album ormai iconico dopo 49 anni, 49 anni fa è stato pubblicato, veramente ha cambiato la storia della musica e ha raccontato diciamo anche una storia, un mondo che era allora negli anni 70 che poi alla fine non è che sia cambiato più di tanto, lo capiamo perché queste canzoni poi alla fine diventano canzoni che sono anche ascoltabilissime nei giorni di oggi con tutto un messaggio che non cambierà mai perché è natura umana. Allora Sergio, a parte che hai un primo piano spettacolare, la bellezza di condurre da casa a parte l'eco che mi continua ad avere delle cuffie, ma insomma ce ne faremo un'argione e a parte l'eco è vedere i primi piani dei nostri ospiti. Tutti belli poi. Spettacolari, quindi 30 secondi, poi ci ritroviamo, toglietemi l'eco, ieri avevo l'eco, faccio tutto anche su una gamba sola. Ma senza eco. Via l'eco. Mi prego, abbiate vietà. 30 secondi. Senti Sergio, dark side of the moon. The dark side of the moon, dice qualcuno, però vabbè. Qual è il tuo dark side? Il tuo lato oscuro. Ne ho tanti, perché tutti abbiamo dei lati più chiari, dei lati più scuri e la nostra realtà alla fine è fatta di tutte e due, di un mix di tutte e due, di quello che si vede e di quello che non si vede. Molto spesso è molto più importante la parte che non si vede, che non vuol dire che sia negativa, è semplicemente che è interna a noi, è il nostro mondo. E il tuo mondo, dici una cosa sola. Diciamo che può cambiare molto, dipendendo di come viene il riflesso e come viene il riflesso dal prisma, il mio mondo può cambiare moltissimo, da uno stato d'animo a un altro, già sia dalla parte interiore. Ma c'è sempre una parte interiore che non cambia, che rimane sempre fissa, è quella più vicino al cuore di solito. Quindi alla fine se uno vuole trovare un suo equilibrio deve andare lì, in quel lato, che non è un lato oscuro, è pieno di luce, però è un lato che comunque non si vede di solito. Ma che bello Sergio, è vero che abbiamo fatto yoga l'ultima volta che sei venuto nello studio. I frutti dello yoga. Esatto, lo capisco. I frutti anche forse di quella vittoria all'inizio dei famosi, no? Nella quale tu sei rimasto da solo e lì hai scoperto delle cose che ti hanno cambiato? Lì ci sono stati, assolutamente è stato un momento della mia vita di svolta, di svolta sia, diciamo, professionale, perché lo è stato, e anche personale, perché comunque io sono stato catapultato in un mondo che non conoscevo molto, il mondo dello spettacolo, io venivo dal mondo della moda che è un po' diverso, non è la stessa cosa, siamo meno riconoscibili nella moda, e quindi essere proprio lì, con tutte le luci puntate, una persona con la mia natura, diciamo, uno dei miei lati oscuri è quello, nel senso che io nasco un po' come timido, poi piano piano uno si abitua, però bisogna imparare, bisogna imparare a essere sotto i riflettori, non è scontato per una persona come me. E tu cosa, in che modo hai imparato a stare sotto i riflettori? Perché ognuno ha un suo modo. Io ritengo che il modo migliore sia essere sempre se stessi. Esatto, esatto, essere sempre se stessi e cercare di mentire almeno possibile, anche se molto spesso si pensa che gli attori mentono per lavoro, no? Invece no, l'attore diventa bravo quando non mente, quando sente veramente, e una delle cose, diciamo, che ho avuto più difficoltà è nel chiacchiericcio, no? Perché quando sei sotto i riflettori sei gente che parla, semplicemente perché può, no? E quindi molto spesso senti tante cose che potrebbero offendere una persona normale, ma a te non dovrebbero offenderti, perché sei un personaggio pubblico, no? E quindi questo è stato un po' difficile all'inizio. Dopodiché capisci che non è importante. C'è qualcosa che ti ha ferito? No, c'è quello sicuramente. Ma c'è qualcosa che ti ha ferito? Sì, prevalentemente, guarda, le interpretazioni libere della tua vita e di quello che loro pensano che tu sei. Noi siamo, è vero che tutti siamo maschere, no? Che poi alla fine, diciamo, ci nascondiamo dietro delle maschere, ma molto spesso la gente ti mette proprio delle maschere che poi tu non te le senti addosso, no? Ma io non sono così, io non sono quello. Però molti ti vedono così. E come ti avevano dipinto? Come ti avevano dipinto? Un dipinto come, guarda, uno frivolo che le piace uscire alla sera, che fa... Io sono proprio stato sempre il contrario, nel senso che ci ho lavorato anche in discoteca e tutto, però per obbligo dovevo portare i soldi a casa, quindi non sono mai stato uno molto notturno, ecco. Ed essere definito frivolo ti feriva? In certe situazioni. In certe situazioni quando questo veniva poi... Perché niente contro, perché veramente ho tantissime persone che le piace divertirsi, le piace uscire di sera e tutto, ma quando viene poi accomunato a... Che vuoi che faccia questo? Dai, che questo è uno di quelli che... Come stile di vita. Esatto, come stile di vita, diciamo, e lo mettono nella parte lavorativa, lo mettono nella parte... Ti vestono così, e quindi così in tutte le parti, e non è così. E lì è il pregiudizio, caro Sergio. Lì è il pregiudizio, anche perché tu sei bello, e quindi un uomo bello, così come una donna bella, non può essere intelligente. Però permettimi di raccontarti una cosa, il vantaggio di condurre da casa è che io ho il telefonino H24, perché gli autori mi comunicano quello che avviene con i collegamenti, eccetera. Mi ha scritto una collega dicendomi che con Sergio Munizzi studio lei si sarebbe precipitata anche con la pulmonia interstiziale. spesso, è una battuta, ma te la volevo dire, non dico il nome della collega, neanche sotto tortura. The Wall, mezzancella, ce la canti? Dai, andate ragazzi. Posso farla da solo. Vieni, vieni, Romi, vieni. Momento rock! Sergio, vieni, canta con noi. Ciao. No need no touch control No does a castle in the classroom Teachers leave those kids alone Hey, teachers, leave those kids alone Hold on this gesture, now they're breaking the wall Hold on this gesture, now they're breaking the wall Bravo, ci stanno i maligni Bravi, bravi Senti Sergio, ma tu sei papà di Iari che si chiama come il fratello di Romina Sì, sì sì, l'ho saputo dopo È stato un nome che aveva scelto mia madre Perché non ci mettevamo d'accordo tra me, Morena e tutti Mia madre ha tirato fuori sto nome, Iari Ha detto mi piace un sacco Poi abbiamo scoperto che ha un sacco di significati È bellissimo come nome Cioè quali significati? Può essere in russo figlio del sole mi sembra O eletto da Dio Dopodiché in sanscrito buon amico In giapponese invece Iaris E' addirittura in sanscrito Pure in sanscrito esatto È un tipo di lancia Romina ma lo sapevi? La definizione in sanscrito sì Perché mio fratello Iari è molto affine al mondo induista Vedi? Quindi lo sapevo Ma tua madre l'ha scelto per mio fratello? L'ha scelto perché le piaceva Iari Proprio per il suono Poi ho conosciuto anche Iari Carrisi Sì sì l'ho conosciuto anche Abbiamo suonato anche quelle canzone insieme È un bellissimo musicista È un festival di yoga ovviamente Ma io adoro Dobbiamo fare una session di yoga Sergio vorrebbe cantare qualunque cosa Perché se gli mettiamo la chitarra in mano Sergio ci ha deliziato di tante canzoni Bello e bravo Bravo e bello Grazie grazie Eh e suonaci qualcosa Senti intanto mando una chippa Quella che abbiamo suonato Quella che abbiamo suonato con Con Iari Appoggia un attimo qua il piede Hola mio amor Che bel disegno che hai fatto Brava Io non ci posso credere Ho sentito il tuo pochetto Ma come ti è venuto in mente di chiedere l'affido congiunto Bianca è mia figlia e tu non me la puoi portare via Ma non ho nessuna intenzione di portartela via Comunque ricordate che è anche mia figlia E anche io ho diritto quanto tè di stare con lei Riflettici Un modo per fare la separazione meno traumatica per la bambina Guarda che sei tu che l'ha voluta questa separazione Che cosa c'è? Che non siamo stati abbastanza attenti Guardalo dal lato positivo Da oggi in poi non dobbiamo più nascondersi Dai Nicola non fare lo scemo Sapevamo che non sarebbe stata facile Che prima o poi sarebbe successa qualcosa del genere Sì Però io Io pensavo che avremmo trovato un modo un po' più Facile Indolore Tu non sei cosa in genere Laura? Ti fa piacere che Valerio sia il frate Non sei fiero che tutti sappiano che gli hai rubato la donna? Io non ho rubato niente a nessuno Che ricordi Seggio Però Hola mi amor Hola mi amor Io sei tu lobo Scusa ripeti un attimo Ripetilo Hola mi amor Io sei tu lobo Sono il tuo lupo È una canzone spagnola poi Jessica si sente male Serena Jessica è svenuta Attenzione Aiutiamola Aiutiamola Un po' d'aria No scusate C'avevo una cosa Dai A posto Comunque Bei ricordi Terapia d'urgenza Mamma mia Un anno intero Ci serve a noi di terapia però Poi ne abbiamo avuto Ne abbiamo avuto di terapie poi Che bella terapia Sì va bene C'è Jessica che è veramente da un'altra parte Ora concentrati Perché noi abbiamo fatto in realtà con Sergio Abbiamo fatto il torneo di tale quale show insieme Per cui ho avuto modo di vivere Sergio anche dietro le quinte Ed è così come lo vedete È un ragazzo semplice Bravo E dolcissimo Per il bene E per il male E poi gli piace tanto cantare 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 Canto e suona Ecco la chitarra I suoi occhi parlano E dice tutto il suo sguardo E allora Provo a fare una Che mi ha insegnato A suonare Iari Iari Carrisi Vediamo A suonare A suonare Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Across the universe Bravo Sergio E lo vediamo qui a tale quale In 2020 Tutta mia la città Un deserto che conosco Tutta mia la città Questa notte un uomo piangerà Così stanotte voglio una stella Farmi compagnia Che ti sembra da contare Ma d'indicarti la via Così amore, 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 amore Dove sei Bella Come una mattina D'acqua cristallina Come una finestra Che mi illumina Tu scelgo Calda come un pane Un brasso tombino Come un passaporto Con la foto di un bambino Come un passaporto Con la foto di un bambino Ragazzi Siamo nell'ambelico del mondo Bene, bene Mi sono divertito tanto Mi sono divertito tanto Ma l'hai mai conosciuto Lorenzo? No, non l'ho mai conosciuto Non ho mai avuto la fortuna Perché secondo me E' uno ganso Uno ganso Uno di quelli Da conoscere Magari un giorno di questo Se me sareste tanto carini Chissà cosa verrebbe fuori Magari farsi un giro in bicicletta insieme Certo Senti, allora Ho capito che il 25 marzo A Roma Debuttate con Dark Side of the Moon Sì Con i temi importanti Come i comunicabili d'Italia In azione E in qualche modo La follia Legata anche a Sid Barrett No? Che era il grande componente Epic Floyd Che ahimè Venne a un certo punto Ricoverata in uno stale psichiatrico Se non erro Cosa c'è di pazzo in te? Abbiamo detto di oscuro E di pazzo niente? Tutti abbiamo una parte di pazzia Quel lato oscuro È fatto proprio di pazzia Infatti È proprio quello La nostra pazzia La nostra vera essenza Molto spesso va al di fuori La pazzia poi alla fine Che cos'è? È quello che va al di fuori Delle regole Che va al di fuori Dello stabilito E tutti abbiamo Questo bambino Perché alla fine È un bambino La pazzia è poi come un bambino Il bambino fa un po' Quello che vuole Non ha regole Poi il mondo Ti impone Queste regole E uno diventa Diciamo Più normale Diciamo Ma guardati bene Con la lente di ingrandimento Io credo che nessuno È normale Tutti abbiamo Una nostra pazzia E in questo album Infatti parlavi di Sid Barrett In The Dark Side of the Moon C'è molto Sid Barrett Sid Barrett non ha partecipato A questo album Era già diciamo Nel suo lato scuro Che non è un lato Negativo In tutti i sensi Nel senso che È una parte nascosta Semplicemente Però c'è C'è tutta la sua anima In qualunque canzone In qualunque nota Si sente Sid Barrett In questo album Assolutamente E si sente la follia Che dobbiamo accompagnare Tu peraltro Sei cresciuto In una famiglia Invece molto Tradizionale Mi sembra di capire Eravate tre fratelli maschi Papà è morto Mamma c'è ancora Sì ho degli ipotesi Di tutto Infatti io adesso Che ho un bambino Di un anno E due mesi Maschio Irrequieto Come me Proprio Come eravamo noi Io penso tanto A mia madre Come ha fatto Con tre come noi Come ha fatto Cioè io Quanto penso a lei In questi giorni Veramente A che cosa le combinavi Quando eri bambino Guarda di tutto E di più Non eravamo Dei bambini facili Questo è sicuro Tipo? Le combinavamo Di tutti Di tutti i colori Allora Eravamo molto attaccati Quindi due anni In differenza Con mio fratello Diego Quello più giovane E un anno E quattro mesi Con quello fratello Più grande Mio fratello Ruben E quindi Si litigava continuamente Era un litigio continuo Poi ci vogliamo Un bene Nella madonna Veramente Ci vogliamo tanto bene Non riusciamo A stare separati Ci dobbiamo chiamare Sempre spesso Però Era normale Normale Finire con frizioni O poi magari Quando si iniziava A uscire A 13 14 anni E tornavi Già con problemi Dal di fuori Portati a casa E allora Le prime fidanzatine Magari Non erano solo quello Le prime feste Le prime cose Che combinavi Perché magari Ah ti hanno beccato Che hai fatto E tanto non si dice Vabbè Però E che facevi? E quindi E cosa fanno I ragazzi I ragazzi I ragazzi Di 13 14 anni Ma il tuo amore Te lo ricordi? Marachelle La prima fidanzata? La prima fidanzata Seria 16 anni Sì 16 anni Siamo stati insieme Per un paio d'anni E poi E poi via Tu non sei un farfallone? Non di natura Però L'ho fatto Anche Anche quello Diciamo Sono stato anche Per piccoli periodi Un farfallone E perché Perché solo per piccoli periodi? Perché non ti ci riconoscevi? Perché non mi riconoscevo Non mi stavano tanto bene Poi Dipendendo Della situazione Nella quale stavo Io mi adattavo anche Però In generale Se Se sto bene Con una persona Non ho bisogno Di fare il farfallone Non c'è proprio bisogno Quindi sei fedele? Sì Di natura sono fedele Sono stato infedele Nella mia vita Lo riconosco Però Per periodi Con le donne Diciamo Con le quali sono stato bene Non sono stato assolutamente Infedele E quando sei stato infedele Hai confessato il tradimento? Sei stato mai scoperto? O sei stato così bravo Da non farti scoprire? Ho sempre cercato di essere bravo Per non farmi scoprire Ovviamente come tutti quanti Negando l'evidenza E tutto quanto Però A un certo punto Ho detto Non vale la pena Perché poi alla fine Io non ho Non ho la memoria Per potermi ricordare Tutte le cose Quindi A un certo punto Ho deciso Non voglio mentire più Basta E ormai sono anni Erano così tante No Non erano così tante Però C'ho poca memoria Quanto regga Poca memoria Però Non si Vabbè Si decide Quando avere poca memoria Non buttate troppe pietre Perché Esatto No Mi piace Serena Che a casa sua È così Rilassata È lì completamente così Che si lascia andare Alle domande Alessandra Un grande amore Uno degli ultimi film Che hai fatto Vai Sì E l'università? No l'università tutto bene Poi sto lavorando Con un giornale online Che si occupa di cinema E saltuariamente Faccio anche il cameriere In un pub per guadagnare Un po' di soldi Un po' di pratica Ce l'hai? Eh sì E ragazze? No no Ragazza nada Ce l'ho qualche amica Sì ma niente di più Poi non ho tempo Non ho tempo Quando sono qui Mi pongo sempre La stessa domanda Posso fartela? Certo che puoi Tu e la mamma Eravate felici? Sì Tanto E perché decideste Di venire a vivere qui? Lontano da tutto? Beh Credo che questo panorama Potrebbe essere sufficiente No? Poi metti che Volevo fuggire Dalla frenesia della città E che qui faccio Il lavoro che mi piace Papà da cosa scappavi? Non lo so Forse le ricordi? Scapavo dai ricordi Due domande La prima Due domande Qui fai la parte di un padre Sì E peraltro tu sei padre di Ghiari Abbiamo detto Ma hai cresciuto La figlia di Giorgia Sì sì Continuo ancora a crescere Nel senso che vabbè Adesso è già abbastanza cresciuta Ha già 14 anni E infatti La saluto tanto È bellissima È abbastanza brava Dai Che è la figlia Della tua ex moglie E sei geloso Dei suoi fidanzatini? Non me li fa conoscere Ovviamente Figurati Alla mamma le racconta tutto A me Dei fidanzatini Mi racconta Ben niente Seconda domanda Hai girato a Napoli E sappiamo che poi la Spagna Con Napoli Con tutto il cosiddetto Regno delle due Sicilie Aveva un grandissimo legame Ti piace questa città? Adoro questa città All'inizio mette paura Perché è un po' una pazzia Una città pazza Nel senso che è al di fuori De certe regole Però è molto regolata Ha delle regole interne Che poi una volta che le conosci Non puoi chiamare questa città Veramente Perché è fantastica Però all'inizio Il primo approccio È un po' forte Allora Per aiutarci a conoscere meglio Napoli C'è l'ottimo Cannoletta Che ha uno dei suoi favolosi quiz Eccolo Sta entrando Romina Eccolo Massimo 5 secondi È tornata Grazie Ecco Si è formata la scenografia Bene Cannoletta Pronto Allora Premesa Tra il mal di testa Che portavo a casa Quando ero bambino Erano i compiti Nel senso che Quando dovevo fare gli esami Io ho un disastro Quindi adesso Che si parla di tipo esami Io sto già tremando Ma tanto Non sono mai stato bravo Ma non mi rinforzi Che ti aiuta No 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 Invece no Sono io la campionessa No vai vai Jessica ti supporto Allora Oggi io proprio Stimolato da questa Da questa provocazione Faccio il quiz invece a Sergio A solo Sergio può rispondere Solo a Sergio Potete consultarvi Managgia me che ho parlato Possiamo suggerire noi Quindi la domanda Se parlava di Napoli E' su Napoli Ed è la seguente Vediamo quanto conosci Napoli Sergio Chi Secondo alcuni studiosi Ripeto Secondo alcuni studiosi Sarebbe sepolto In una chiesa Di Napoli Uno di questi quattro Personaggi Casanova Oppure Dracula Oppure Mozart O Giuda Iscariota Pino Non suggerire Consultatevi ragazzi Ma poi La risposta La voglio da se No la so Dracula Dracula Tratto dal sangue Di San Gennaro Vabbè Non esageriamo Ha vinto Ha vinto Ce l'hai vinto Abbiamo trovato Un altro campione Non ci posso credere Ma come hai fatto Non ci posso credere Come hai fatto E' stato San Gennaro E' stato Anche San Strabioli Anche stato un po' San Strabioli Però vabbè Vi svelo Questo piccolo dettaglio Che potrebbe sembrare In effetti Ma che fa Pino Massimo Massimo Suggerisce Non mi posso allontanare Un attimo Che qua si crea il caos Io l'ho detto Dracula Approfittando Della tua assenza Ho fatto un piccolo Gesto a Sergio E Sergio ha collegato Il gesto a Dracula E io ho chiuso un occhio Perché Sergio Mi sta molto simpatico Amo molto la sua città Tra l'altro Per cui Allora vi racconto un attimo Questo piccolo aneddoto Brevissimo C'è la chiesa di Santa Maria La Nova A Napoli Proprio nel centro di Napoli Dove c'è una tomba Che ufficialmente appartiene Alla famiglia Ferrillo Una famiglia nobile Però si pensa Che per una serie di indizi All'interno ci possa essere Addirittura sepolto Dracula Cioè Il personaggio storico Vlad Che ha ispirato Poi il romanzo Di Dracula Per quale motivo Andate a cercare Tutti i vari dettagli Però ve ne dico Solo un paio Appare Sulla tomba Il simbolo del drago E L'ordine del dragone Era un ordine Anti-ottomani Che venne fondato Dal padre Di Vlad Vlad II La figlia L'ipotetica figlia Di Vlad Probabilmente Si sposò Con Un figlio Della famiglia Ferrillo E addirittura In una lapide Che si trova dietro Questa tomba Appare In una grafia Che non è mai stata interpretata La parola Vlad Quindi è un ipotesi Di alcuni studiosi Che ci incuriosisce Ti ha fatto Indovinare il quiz Io però ti vorrei fare Una domandina brevissima Perché Napoli è meravigliosa Come dicevi E giustamente Ci si innamora Appena si arriva Ma io mi sono innamorato Anche della tua città Di Bilbao Quando ci sono stato Adesso che vivi in Italia Non ti manca? Certo che mi manca Lo spincios Lo spincios Lo spincios Ma non solo lo spincios Mi manca tutto Mi manca veramente Guarda Per farti capire Anche il clima Anche quei 150 giorni Di pioggia all'anno Che ormai non piove Da un sacco di tempo Parlando di acqua Poi oggi Giornata mondiale dell'acqua Molto importante Infatti Speriamo che Che piova Anche se a molti Diciamo può dare fastidio Ma è L'essenza della vita L'acqua Quindi è importante Mi manca pure quella La città sul fiume Quindi acqua Ne avete tantissima Viva Bilbao Viva la Spagna Viva Napoli Bravo Sergio Grazie Sergio numero uno Bilbao C'è anche il Guggenheim Allora abbiamo detto Un ragazzo Soprino i talenti Grazie per il ragazzo Io ho deciso Che siamo tutti ragazzi Cino ai 97 anni Fantastico Sappiamo che canti bene L'abbiamo appena notato Ti vediamo a Sanremo Con immatia Bazar Soprino i talenti Forma il limite Inora Il trasguardo è come un canto Mi confonde sempre Dio Ma non dite che non senti La magia di quel momento Quando il mondo Si amore E vittirlo trocemente E vittirlo trocemente De vittirlo che miro De questa maniera Come il vento Con dolcura Mi confondi e te ne vai Adios Mi confondi e te ne vai Adios Basta Numero uno Sergio Muniz Ma per conquistare le ragazze Hai qualche tecnica particolare? No Guarda C'erano i miei amici Che mi dicevano sempre Meno male che sei cresciuto bello Perché se no Ti facevi pre Ti facevi prima Perché per fortuna Io ci inciampavo Ci inciampavo e basta Non sono bravo A conquistare le donne Mai stato E invece la dichiarazione Di amore femminile Che ti ha colpito di più? Come? Immagino che Comunque avrai ricevuto Invece dichiarazioni d'amore Ce n'è una Che ti ha colpito di più Delle altre? Delle mie storie? O delle storie? Generale Una frase che ti ha detto Una ragazza? Generale Uff Se non state Di persone importanti Nella mia vita Probabilmente sono Tre o quattro La prima Dichiarazione di amore? Dichiarazione di amore Non Che ti hanno detto Sergio? Faccio il sottile Non me ne ricordo Sono più che altro gesti Più che altro gesti Diciamo che Tipo? Non lo so Di trovarti per esempio Non aspettartelo Trovartela lì Per esempio In quel momento Ma come? Cosa fai qui? Eh niente La sorpresa La sorpresa Volevo semplicemente Vederti Basta E già quello Proprio è Un qualcosa Ma tipo nella stanza L'albergo Trovartela dove? Stai a dire Serena Ma come? Non nella stanza L'albergo Serena Parlando una strada Lui che esce di casa E trova questa donna Che ama Ma non si fanno Ma non si fanno Queste sorprese Che non si mai Dai citofoni Magari lo trovi Comun'altra Non si fa Senti Sergio So che tu hai Un'altra passione Che è il bimardino Eh mi piace tantissimo Anche se Devo riconoscere Solo una schiappa Però Guarda che ti sento Io lo sento Peronne Che bofonchia È lì È lì Stavo dicendo Che l'isolamento Da covid Sta facendo i suoi effetti Vediamo che sei lì Sei come l'acqua frizzante Che appena muovi la bottiglia Serena Che fa così Peronne Ma io sono sempre Come l'acqua frizzante Mi meraviglio Che tu non te ne sia accorto Alzati un po' So che avete insieme C'è un bimardino La passione di un bimardino Vai Facciamo una bella di sfida Sì mi hanno detto Che lui è bravissimo No sono una schiappa Mi piace Mi piace tanto Ma Attento che lì scivoli Questo momento maschi alfa Ci mancava Allora Si fa così Si apre l'uovo E si finge No 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 Va bene Pronti Via giochiamo Dai Vai Sì ma se te la tiri a te E non me la tigono Ecco Vai che questa Vedi che mi scappano Mi scappano Ecco Dai Io ci provo però Vedi che Beh ho trovato un altro Che non è che sia sto genio Neanche lui Vediamo Forse ho giocato Troppo Persone brave Chissà se non sarò diventato bravo anch'io Qua un attacco Siamo centrocampo Attacco Niente Un'altra volta Siamo nella porta avversaria A giocare il movimento di gambe No Già mi confondi così Che vediamo che si è andata Basta No No Divisita Ancora Vai Spendendo Spendendo No 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 Cambia posto Oh Vai vai Palla Perché è di qua che lo funziona Non ci filano 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 Serena intervieni tu Verba Vieni tutta E lì È finita E' più schiappa di me Ma è vero che è bravo Sembrava la scena di un film anni 50 No è che mi battiva la camera Prego Però non sa pure ballare col biliardino Ballava Samuel come un pazzo Giocava e ballava Giocava e ballava Ho sentito la musica Nel frattempo però Sergio vinceva E ti ho detto che è un campione È bravo Ti muove troppo Questi movimenti d'anca Poi ti sbilanciano Bravo Il coso La concentrazione sui giocatori E salve Dai Sergio Ci dobbiamo salutare purtroppo Per le signore che stanno a casa Che come me insomma Si sentiranno un po' Tristi Ma so che tu hai un ultimo Maggio Canoro da indicarci Giusto? Non ho sentito bene scusate La canzone Cantiamo? Un Maggio Canoro da indicarci Io sono sempre disposto a cantare Figurati Allora raggiungiamo il maestro Raggiungiamo il maestro E di questi tempi Vediamo È fondamentale Cosa ci presentano? Allora ci presentano Una cosa qua Esatto Ma questa l'ho già fatta altre volte Quindi potrei farla Però per fare un omaggio a Julio Iglesias Cominciamo così Poi dopo questa è tutta tua Prendo un... Sì A volte sono un bastardo A volte non so neppure come io sono Mi piace qualunque cosa che è proibita Ma vivo di cose semplici E vivo la vita Ti dirò Amo la luna e amo il sole Sono un pirata ad un signore Professionista nell'amore Pensa a me Pensa a me Tanto, tanto, intensamente Con il cuore e con la mente Come se io fossi La valigia è soletto Quella di un lungo viaggio E tu senza dir niente Hai trovato il coraggio Con l'orgoglio ferito Di chi poi si ribella Ma quando ti arrabbi Sei ancora più bella Se mi lasci non vale 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 Dentro quella valigia Tutto il nostro passato Non si può stare Sergio Mugnitz Ma è lui Mugnitz canta Iglesias Quante volte l'hai cantato in vita tua? La manita La manita chi? L'ho mai detto Serena? La mano super Dov'è super? Dico, quante volte l'hai cantato Julio Iglesias? Diciamo che solo questa canzone Perché in realtà Io non conosco tanto le canzoni E soprattutto in italiano Io le sentivo in Spagna Ma non le ho mai imparate Non erano la musica Diciamo che ascoltavo regolarmente A me Era un po' più rocchettaro Diciamola così Più Pink Floyd Capisco Sergio, sei stato delizioso Come sempre Grazie di essere stato con noi Ricordatevi tutti a Teatro Prisma Dark Side of the Moon Devo dire Sei stato delizioso Anche perché Sei un uomo di ironia E autoironia E quindi hai accettato Anche diciamo Di farti Di ridere Scherzare con noi Perché in questo momento Ne abbiamo tanto bisogno tutti E un po' di dolcezza E di aiuto Ci serve Ci serve Grazie 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 davvero Ciao Sergio